Il mio figlio si è fissato con queste cazze di moto. E basta con questi conti, so so. Ma chi deve venire qua? Ehi, la domenica a me non mi bastano i tavoli. Ma che hai fatto tu che devi chiedere scusa alla Madonna? Io non mi batto il petto per chiedere scusa. Ma per avere una grazia. Che grazie? È un segreto. Però tu sei figlio e insuccio. E te lo posso dire. Perché insuccio per me è stato sempre come un figlio. E tra padre e figlio non ci devono essere segreti. Giusto? Giusto. Le chiedo che mi fa stare buono. E che non mi fa fare più minchiato. Vai a guardare le moto, vai. Che devo parlare con Zio Sotto. È un segretario. Che devo parlare con Zio Sotto. Mi faccio per me è piaciuto.